Cucurumalu, stop. Isola di Sardegna, stop. Identificata esistenza di individuo di identità non identificata che ha ca... Qualcuno si è impossessato della luna, signore, quella che sta in cielo. Che cosa dobbiamo fare? Allora, mandatemi subito una coppia del documento. E poi rimettetevi a pensare quello che stavate pensando prima. Cucurumalu, I understand. We'll look into it immediately. I appreciate that, Mr. Bataloni. We should treat this matter very delicately. We found it! We own it, goddammit! Put me through right away to the local operating branch! Ah, la Lui. Notre satellite. Je crains tuttfoi che c'è un'incomprension di natura geografica. Oh la la, non se c'è la Corsa. Per la Sardegna, vous devez vous adresser au référent italien. E qual è il problema? Ce pensiamo a noi? Non vuoi. Naturalmente, Eminenza. E posso assicurare che mi occuperò della cosa in prima persona. non mancherò. Grazie. Sono io che la ringrazio, Dottor Badaloni. Abbiamo risolto tanti problemi insieme su questa terra. Con l'aiuto di Lio risolveremo anche quelli degli aspere celesti. Per l'aspera d'astra. Per l'aspera di videoclip ha utMy deb d' cover assurda. Per l'aspera d'ab siege complexa della città listen per l' gitti o molto per lì a qui ready hits in la video. Per l'aspera fine di ehdi meant ci trootzatist, Con l'aspera d'ab